buongiorno ikidoka bentornati sul canale dopo l'ultimo video nel quale chiedevo la tua partecipazione per gli argomenti di cui vuoi parlare su questo canale mi sono cominciato ad arrivare alcune richieste la richiesta è di provare a spiegare la differenza tra kata e kumi il kata che possiamo tradurre come forma modello è un esercizio che facciamo individualmente sono una serie di movimenti codificati che rappresentano varie tecniche di combattimento nella fattispecie dell'aikido siamo abituati a vedere i kata con il jo quindi i kata tali del fondatore più altre variazioni che sono stati inventati dai suoi successori il kata è uno strumento che viene utilizzato per mettere in evidenza i fondamentali dello studio le opportunità di azione le variazioni timing lo spazio che si occupa nel muoversi insomma tutta una serie di informazioni che possiamo andare a studiare da soli all'interno del kata è poi possibile trovare molte delle tecniche che noi andiamo a studiare individualmente troviamo ai suburi e gli avase c'è da dire che lo scopo principale del kata essendo appunto un esercizio che si esegue da soli che si può studiare in autonomia lo scopo del kata è puramente didattico all'inizio si lavorerà su quello che è il livello della memorizzazione della serie degli esercizi poi sul perfezionamento degli esercizi poi si andrà a lavorare sul timing sullo spazio che si occupa sui movimenti sull'uscire di più o di meno dalla linea esiste anche un aspetto più spirituale del kata che è quello che durante la l'esercizio l'allenamento del kata si è in grado di far vibrare corde più profonde proprio perché non si ha il contatto con il partner non si è presi nella foga del dello scambio del combattimento fra virgolette e del fatto di avere un'altra persona a cui dover in qualche modo badare o stare dietro si ha la possibilità di concentrarci su di noi e quindi di andare in profondità e appunto di riuscire a far vibrare quelle corde che magari nel lavoro a coppio non siamo in grado di far vibrare è una forma se vogliamo dire di meditazione in movimento di introspezione all'interno del kata noi possiamo lavorare in maniera molto profonda andando a lavorare su quelli che sono le sensazioni che noi riceviamo dal nostro corpo muovendoci in una posizione in un certo tempo in un certo modo e andando ad accrescere quella che è la nostra consapevolezza sia da un punto di vista tecnico fisico che da un punto di vista anche personale e spirituale il kata è quindi prima uno strumento di memoria appunto dove all'interno del quale noi andiamo a lavorare su quello che è la ripetizione della serie codificata quindi impariamo prima memoria poi uno studio di perfezionamento e di integrazione di ogni singolo pezzo di ogni singolo movimento del kata quindi passiamo da una forma come possiamo dire a scatti a una forma un pochettino più fluida dove riusciamo a connettere il movimento precedente con il movimento successivo fino a creare una continua catena senza soluzione di continuità e poi si va a lavorare ad esempio scendendo ancora di un gradino si va a lavorare sull'efficacia di ogni singolo movimento e poi ancora sul respiro di ogni singolo movimento ed è proprio attraverso la ripetizione del movimento la ripetizione continua a diversi gradi di profondità che ci si prefigge di arrivare ad avere un'alta consapevolezza sia del movimento tecnico che di sé a livello di studio l'ideale sarebbe che i praticanti potessero studiare la serie quindi il primo livello in maniera autonoma a casa e lasciare alla pratica in dojo dal secondo livello in poi quindi dal dopo aver imparato la serie questo permetterebbe di fare in dojo un lavoro che è molto più interessante dove l'apporto dei senpai e del docente sono più interessanti più profondi più efficaci ciao mi fai incattare i tredici alla scrivania? dai 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 che devo mettere nel video però è anche vero che non siamo abituati ad allenarci a casa e quindi ci ritroviamo a fare quello che è l'allenamento mnemonico in dojo quindi il docente che conta e noi che ripetiamo finché non impariamo a memoria la nostra serie questo va bene sicuramente c'è da considerare il fatto che però dilata nel tempo quello che è l'apprendimento mnemonico dell'esercizio e sposta più avanti nel tempo l'intervento del docente a livelli più profondi e più interessanti sicuramente una delle motivazioni per non studiare a casa è quella di avere mancanza di spazio o mancanza dell'attrezzatura o mancanza di tempo e in questo caso ci può venire in ci può venire in aiuto una tecnica che viene utilizzata per anche la meditazione che è la visualizzazione ci basterebbe alle volte anche solo stare seduti alla scrivania e muoversi di poco visualizzare i movimenti e pensare a quello che stiamo facendo io in questo momento mentre parlo con te sto eseguendo il kata dei 13 e questo è comunque un allenamento mi permette di lavorare sulla memoria i movimenti non saranno precisi non saranno perfetti benissimo quello lo correggerò in dojo ma la parte mnemonica me la studio da solo e recupero del tempo e mi porto in vantaggio kumi viene spesso tradotto in maniera erronea come combattimento in realtà sarebbe più giusto considerarlo un confronto confrontarsi e infatti i kumi si fanno con un partner con il quale ci si confronta lo scopo del kumi proprio perché lo facciamo con un partner è quello di creare crescita reciproca proprio per questo quando si lavora a coppie si lavora continuamente alternando i ruoli di attacco e di difesa attraverso il kumi si apprende quello che è la tecnica formale anche nel kumi noi abbiamo una serie codificata di movimenti da eseguire attacco difesa azione reazione prima uno poi l'altro ma ci permette anche di andare a vedere quello che è l'applicativo della tecnica quindi il movimento non è più spezzettato frammentato ma diventa continuativo fino poi a permetterci proprio a livello di applicativo di andare a creare delle variazioni sul tema e questo ci permette di appunto di aprire un grosso ventaglio di opzioni man mano che cresciamo e aumentiamo come capacità bravura di mistichezza e consapevolezza soprattutto a livello di studio del kumi l'avevo fatto vedere in un vecchio video che ti lascio qui su nelle schede possiamo scomporre il movimento come se avessimo una sorta di kata e di contro kata in modo da poterli studiare singolarmente poi kata e contro kata lavorano insieme e creano il kumi proprio perché i kumi di cui ci occupiamo sono degli esercizi che hanno un ordine e una serie prestabilita lo studio del kumi è volto non solo alla memorizzazione appunto all'esecuzione meccanica in serie del movimento ma a creare un continuo sviluppo e una continua crescita per quanto riguarda a base velocità timing efficacia ed è per questo che è fondamentale potersi allenare con un partner che ci faccia da riscontro proprio su questi argomenti specifici argomenti che difficilmente riusciamo a studiare nel kata più noi all'interno della stessa sera o anche nel corso del tempo siamo in grado di lavorare con partner diversi che lavorano a velocità diverse con precisioni diverse più noi saremo in grado di avere davanti un ventaglio di opzioni diverse differenti e quindi più occasioni di apprendere variabili diverse e a saperci adattare a specifiche diverse i kumi proprio perché prevedono l'allenamento con un partner si studiano e si allenano a tre differenti livelli chiamiamoli così il primo livello la forma dan kai dove i movimenti sono suddivisi passo passo quindi prima un partner esegue un movimento dopo che si è fermato l'altro esegue il suo movimento dopo che si è fermato il primo esegue un altro movimento e così via è come una sorta di palla che rimbalza da una parte all'altra e questo ci permette a livello di principianti di poter lavorare sulla memoria prima e in sicurezza poi man mano che aumentiamo la nostra consapevolezza il nostro studio il nostro allenamento arriviamo a forme più avanzate quindi la forma base dove i movimenti cominciano a creare dei primi piccoli gruppi fino ad arrivare alla forma chi ha idee o alla forma libera dove il kumi diventa un unico movimento senza soluzioni di continuità dall'inizio alla fine si dice che solo gli esperti possano gli gradi avanzati possano allenare i kumi in realtà io non sono d'accordo nel mio dojo cerco di far entrare il prima possibile tutti i praticanti a qualsiasi livello nella lezione quando insegno i kumi proprio perché ci sono questi tre differenti livelli di interazione e piuttosto che ne so dirò al principiante di lavorare solo a livello dan kai mentre i gradi più avanzati di lavorare a livelli e velocità più avanzate però secondo me è necessario sin da subito portare anche il giovane praticante all'interno di questa realtà di allenamento perché ha bisogno di vedere sin da subito che il lavoro che fa a livello individuale con i suburi e poi riscontrato con gli esercizi di armonizzazione degli avase ha un fine tecnico e pratico all'interno del kumi così come nel taijutsu portiamo il nostro allievo sin da subito sin dalle prime lezioni all'interno della tecnica magari facendo delle chiusure proprio edulcorate più ammorbidite quindi prendendo delle precauzioni allo stesso modo prendendo delle precauzioni possiamo portare il nostro studente all'interno dei kumi io spero di essere stato esaustivo se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere il video con chi credi possa essere interessato qui sotto nei commenti dimmi cosa ne pensi di questo video e scrivimi se hai delle richieste specifiche che mi vuoi fare a me non rimane che salutarti e augurarci di vederci presso su un tatami reale o virtuale che sia ciao